La DAB, distributori automatici e caffè, siamo abbastanza grandi, abbiamo conosciuto... La macchinetta mi ha mangiato 50 centesi, come dico sempre i nostri clienti, problemi tuoi? No, non è vero, non è vero. In realtà ti volevo informare che i tuoi dipendenti dicono esattamente questo. Ecco, non è un problema, non sono miei dipendenti ma colleghi, perché ancora non me la compro l'azienda per mia sventura, Io so che quando l'azienda, specialmente della tua... Se per dire una cazzata lo so, però ti volevo porgere il... Com'è che si chiama la? DAB Ok, quando ti mangia 50 centesi mi fa così. Sì, sì, ma... Noi addirittura le programmiamo le macchine per rubare soldi e guadagnare e lucrare su prodotti non venduti, per cui non è vero. Succede, io lo chiedo, poi vedo il ragazzo e gli dico, guarda mi ha rubato 50 centesimi, lo puoi dimostrare? Sì, ma la verità... Allora non ti aveva rubato, scuete la macchinetta, magari... Noi in realtà abbiamo proprio, cerchiamo con il personale di educarli a dire cazzi tuoi, però poi... E li rimborsiamo lo stesso, però va bene, insomma cerchiamo di essere magnanimi in questo, insomma tutto qua. Va bene, ottimo, dai ci può stare. Grazie a tutti.